Mentre il premier israeliano Netanyahu parlava al congresso degli Stati Uniti davanti a Capitol Hill, a Washington, sostenitori di Israele si radunavano per manifestare a sostegno delle politiche dello Stato ebraico. Netanyahu è qui per lanciare un messaggio per evitare la ploriferazione di un olocausto nucleare in Medio Oriente. Davanti al campi d'olio anche gruppi di persone per manifestare contro Netanyahu e le sue dichiarazioni sulla questione iraniana. Il primo ministro ha infatti duramente criticato la politica statunitense nei confronti di Teheran. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica effettua ispezioni in Iran più che in ogni altro paese. Intanto Israele rifiuta di firmare il trattato con l'Agenzia Internazionale per l'Atomica perché possiede armi nucleari. Ad alzare la voce contro Netanyahu anche alcuni rappresentanti dell'opposizione sionista e ultraortodossa.